bella ragazzi e bentornati sul mio canale siamo qui oggi su fifa 14 per questa sfida di ritorno della champions league all'andata a finire 1-0 per l'atletico madrid gol di diego costa a milano adesso c'è il ritorno raga in spagna atletico madrid milan fate i vostri pronostici passate dalla pagina di facebook perché forse magari iniziano anche giveaway non lo so magari mi gira le faccio comunque passate dalla pagina di facebook link in descrizione iscrivetevi e gustatevi la partita ecco le divise mettiamo quella classica all'atletico e al milan quella d'oro poi va bene la partita giocherà sotto la pioggia non importa ma si inizia subito eccoci tornati ragazzi siamo qui tornati con questo super big match poi c'è stadio calderon non so se sia quello comunque siamo allo stadio dell'atletico madrid di spagna perché ovviamente in spagna l'atletico per questo ritorno della champions league tra atletico madrid e milan ricordiamo che milan dovrebbe vincere con due gol di scarto comunque andare a vincere 2 a 1 anche basta pareggiare vuol dire perdere per il milan perché in casa dell'atletico ha perso quindi il milan deve per forza vincere con due gol di scarto intanto adesso vedete la coreografia tra poco le sue le formazioni ecco la formazione dal tretico con biglia diego con e garcia gabi suarez luiz miranda al de juanfran felipe luis e il portiere che non ho letto scusate se non sapevo leggerlo bene quello col terzino lì comunque è quello lì raga mettete pausa lo leggete voi perché io non sono capace comunque adesso andiamo andiamo a vedere subito la formazione del milan con abbiati pazzini cacca poli tarabte de jong montolivo emanuel son bonera rami abate bonera emanuel son e abbiati che ho già detto vi ricordo che questa partita non la sto giocando io ma la sta giocando il computer di fifa 14 perché io non tifo nessuna di queste due squadre se non l'avrei giocata io questo nuovo sperimento mio spero che vi piaccia in caso contrario lasciatemi un commento perché comunque tutto è inventato da me tutta serie mia l'arbitro sarà svedese sarà slatan no scherzo comunque la partita sta per incominciare la palla già centrocampo e si parte ragazzi ecco dai eccolo contropiede per il milan montolivo lancio lungo per cacca cacca la mette giù cacca insiste cacca cacca riccardo mannaggia ma cosa sbagliato ragazzi cacca ancora per poli 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 1 a 0 milan al ventitresimo ce l'ha fatta poli 1 a 0 esulta la tifoseria ospiti riguardiamo cacca tarabte poli e c'è il gol non può nulla qual portiere poli la mette sotto 1 a 0 si riparte allora 1 a 0 per il milan al ventitresimo poli si riparte così lancio lungo per cacca 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 courtois sarà rimessa laterale per il milan lancio lungo david viglia mamma mia sfiora il gol david viglia con un con un mancino al volo davvero incredibile guardate di quanto passa vicina la palla forse 30 centimetri tutti lancio lungo per viglia 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 la mette giù viglia col pallonetto incredibile al 45esimo david viglia la mette dove abate abbiati non può nulla allora 1 a 1 per david viglia e per l'atletico madrid riguardiamo il tutto viglia la stoppa poi vede abbiati un po fuori dai pali allora lo punisce con un pallonetto 1 a 1 si riparte così partita sarà per terminare primo tempo ma il colpo sotto di david viglia ha ingannato abbiati ha stupito tutti perché comunque da lì tocco sotto era difficile comunque il calcio è strano perché possesso palla lo stava facendo 65 per cento 65 per cento il milan stava dominando e si vede a questo gol al 45esimo una pecca davvero finisce qua è il primo tempo per queste due squadre 1 a 1 secondo me il risultato un po ingiusto perché ha fatto più tiri più azioni più momenti salienti diciamo ha avuto più più azioni davanti al portiere il milan finisce qua al primo tempo 1 a 1 andiamo a vedere le statistiche perché secondo me ecco infatti un tiro in porta dell'atletico un gol tre tiri del milan un gol ma possesso palla raga l'ha schiacciato il milan come possesso palla adesso vedremo il secondo tempo il milan deve fare due gol per vincere la partita sta giungendo al termine la partita è finita atletico 1 milan 1 passa prossimo turno all'atletico milan esce testa alta diciamo perché comunque ha fatto una buona partita ricordiamo il marcatore al 23esimo poli e 45esimo via tutto sommato le statistiche sono state invariate dal primo tempo al secondo tempo cambia davvero poco io vi ricordo di passare dalla pagina di facebook trovate il link in descrizione e andiamo a vedere un attimino uomo partita sky secondo me non c'è uomo partita sky comunque lo faccio io l'uomo partita sky per me è stato poli forse è anche uscito quindi non c'è nelle 6.7 vabbè poli e pazzini dai pazzini ci ha provato raga comunque vi ricordo di lasciare il vostro pronostico sotto qui nei commenti di iscrivervi se non l'avete ancora fatto lasciare un like un commento e noi ci sentiamo alla prossima bella ciao 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 Grazie a tutti.